Belen Rodriguez beccata a New York con un nuovo amico, senza Andrea Iannone. E' settimanale mio a pubblicare le foto della show girly insieme all'accompagnatore, colti da un paparazzo italiano per puro caso tra le strade della Grande Mela. Niente paura, però. Non c'è un nuovo amore nella vita di Belen. Il ragazzo in questione è semplicemente il fotografo Timur Emek, un cui la Rodriguez ha realizzato un servizio di moda. Resta innegabile, a guardare gli scatti, la complicità tra i due, con lui che le sussurra qualcosa all'orecchio e l'argentina che appare molto divertita. La show girly si è regalata un viaggio per lavoro, mentre in Italia montano le polemiche televisive che hanno investito l'isola dei famosi, dove l'ex marito Stefano De Martino fa l'inviato, e l'ex cognato Francesco Monte è stato costretto all'abbandono dopo le accuse di aver portato marijuana nel reality. E' lontana anche da Andrea Iannone, ma non si pensi a una crisi, già abbondantemente smentita dai due diretti interessati nelle scorse settimane. Anzi, ad allontanare il sospetto di fughe romantiche con il bel fotografo ci ha pensato la stessa Belen, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che la mostra insieme a lui a New York. Nulla da nascondere, dunque. Nato a Berlino, Timur Emek ha lavorato nella capitale tedesca tra il 2010 e il 2012, ma oggi è di base a New York. Specializzato in fotografie di moda, anche se nel suo curriculum non mancano servizi di viaggio, ha realizzato contributi per le principali riviste fashion, come Vogue, LGQ. Basta infine dare un'occhiata al profilo Instagram di Emek per vedere cosa ha prodotto l'arte del fotografo per la Rodriguez. Ecco due esempi dello shooting, scatti ad alto tasso di sensualità con una Belen più esplosiva che mai. Chi se ne frega! Chi se ne frega! Chi se ne frega! Grazie a tutti